Musica Ciao a tutti, eccoci qua col terzo appuntamento di Silicate Dart Space Simulazione tattica, spazio dart avviata Va bene C'ha detto Ok, come cazzo funziona? Ok Ok, vediamo un po' che cazzo serve sta roba Attivazione applicazione contracolpo Ok Contracolpo Oh, madonna Area di allenamento completata Dopo una violazione contracolpo riuscita, i bersagli diventano più vulnerabili per un breve periodo Ah, ok Entra nell'area di sfida per testare il piano potenziale dell'applicazione contracolpo Ah, che gioco del cazzo Però è divertente, dai Tanto per cambiare E dov'è l'arma da fuoco? Vai qui Ok Sì Va bene Ah, stai zitta Eh, va Sì, peccato che nella realtà non stanno fermi poi Grazie Va bene Peccato che poi nel gioco gli omini non è che stanno lì fermi che ti guardano, ti sparano adosso Ok, quindi noi eravamo rimasti che avevamo preso l'ascensore Ah, l'ascensore, l'ascensore Allora, l'ascensore Forza Sì, boh Come avete notato non è che ne vado pazzo di questo gioco, ma Era per proporvi qualcosa di alternativo nel frattempo che riprendevo i miei Cazzo è successo? I miei Il segnale del chip dell'agente Merit è stato rilevato nel distritto commerciale a Spari E tu, sali ascensore Bravo Tu, 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 tu Jump Ok Ok Un momento Perché, perché, perché Di cosa si va Oh Cazzo, non mi ricordo più come, cavolo Aspetta Oddio Che, che mi rompe le palle Copritemi Ma vai a fare il culo, va Sei un petto di merda Dai, suicidati, scusso Oh Ma Che gente che gira il giorno d'oggi, eh No Devo andare laggiù Vedete che cazzo Dove è sto ascensore di merda Oh Che cazzo Eeeh Vaffanculo La tua sorella Si Si, 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 certo Si, 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 no Ma però adesso Cazzo Oddio Ecco Poi Ecco Questa è la risposta Alla domanda Perché non fai gameplay di code multiplayer Perché quando gioco a code multiplayer Mi faccio talmente cagare Che crepo 300 volte Cioè non riesco a sparare a un coglione Che li fermo Ma dai Ma per favore Ma dove cazzo è che mi fa Ok, praticamente c'è Cioè non vedo la minchia Ah ma ecco Voglio sto per scripare aiuto Porca trupa Porca trupa Porca trupa Porca trupa Ok Ok Ah ma perché poi mi hanno detto Quella è la storia di code La facevo anche bene Era un multiplayer che facevo cagare Non so perché Non so perché Sarà lag forse Dove cazzo devo andare Ma puttana Ti spacco la testa Ma Che figa Ma dove cazzo siete Proprio bello Perché non li vedo neanche Perché Si spara che c'è il muro davanti Bravo cretino Forse mi è che mi devo da scazzo Ok Ma dove cazzo O vi giuro Che sto per avere Un attacco di sclero Cioè praticamente Devo andare No Era giusto Porca puttana Ficca merda Era giusto Ma vai a fare Puro crepa Dio porco Che cazzo Dov'è Non si vede ancora vivo Pezzo di merda C'è Oh Cristo Ma tua sorella Oh Oh No Mada Fraternizza No Fermati Porca puttana Non mi è vita lì Ci sei ancora Si serio Dobbiamo portare il treno fuori da qui Vai verso la stazione Ci incontriamo lì Si va bene Porca puttana Tutto Oh state calmi Sono un agente Di polizia Tu dovevi essere morto Pezzo di merda Ok Cos'è la discoteca? Yeah Valutazione tattica prevista Schiereranno una retroguardia Bravo Aspettati unità coranzate Damm Dammi il tuo fusile Mio Adesso faccio un po' di tiro a bersaglio Ami Bambam Bambam Tim Bomm Certo Nel Mio Mag taili Nel È Mio Mio Ah, se faccio cacare, se faccio cacare, ma che vuoi giù? Boom! Bim, 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 bim! E scopi! E fuori uno! Dove sono? Amici! Amici! Tut, tut, tut! La tua forella! Fuori! Ti metti fuori la testolina che te la spattaccia! Vabbè, è divertente! Fa un po' che non facevo sti giochi violenti qua! F.P.S. Potete chiamarlo in un altro mod invece di chiamarlo Syndicate però sto gioco perché di Syndicate non c'è tutto! Oddio mio! Questa è quella! Ehm... Pysicaman! Pysicaman! Ah, è che... Si! E però fai proprio cagare a questo gioco Sì lo so che faccio cagare a questo gioco Ma io non me ne frega una minchia E ma che cazzo Oh ma vai a fanculo Dov'è? Scusa amico non volevo Ehi guarda lì che c'è Babbo Natale Sì 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 Eh va a cagare Traguardo 3 Recupero a spari Che cazzo Sì ok queste sono delle statistiche di merda però eh Perché non me ne può fregare niente Brutto Wow che bello Ho fatto un po' cagare A parte il tempo che l'ho migliorato un po' E va boh Se non volevo farvele vedere le statistiche le cancellavo Traguardo 4 Un treno E cazzo hai il pepe al culo Stai calmo Salve Tra le altre notizie rivoluzionari e innovazioni tecnologiche nella costruzione dei grattacei E cagare Ilo Quei merito sono alla piattaforma Arrivi Non vorrai perdere il nostro passaggio Hai rotto il ca- Wow che schifo Ma che cazzo Che cazzo Che cazzo Vai vai Ah ma non posso Perché non posso farla di scuso Che cazzo hai blindato o qualcosa Che cazzo Che cazzo Che cazzo Che cazzo Cazzo Che cazzo Almeno quello posso prendere Eh si E tu Ciao Minca che mira del cazzo Bene Pam Ok Si 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 sa mai Perché si rialza Yuhuu Si Che cazzo Mary Ma ti sparo nel culo Oh sono qui adesso Sì sì sono intero Intero Va bene va bene Oddio mio Ehi PAM Che è che mi sara Ehi Ah Credo che era morto E' vivo Vivo morto Ma scusa Oddio No ma sei ancora vivo Un pezzo di merda Che cazzo è Occhio alle spalle No Ah Porca puttana Ma che cazzo Tutto Giro giro Tondo Bello 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 Sì proprio guarda La postura di combattimento Ma quanti cazzo Spaccamo tutto Spaccamo E spaccamo Adio Adio Dov'è Dov'è lo strozzero Lassù Dov'è lo strozzero Miadesco Dov'è lo strozzero Quello E' Dov'è lo strozzero ok bene 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 tu apri la porta ok ragazzi questo gameplay finisce qui ciao ciao da genetic dna vi lascio gustare l'ultimo pezzo ciao grazie